Alla Bardati a caccia di punti, o meglio, a Torino per tentare di emulare la leggenda di Davide e Golia. Sì, perché contro la squadra di Lerda, in lotta per il sesto posto, tutti i pronostici giocano a sfavore. Anche la stessa designazione arbitrale di Stefanini, con il quale in 13 gare la Triestina ha ottenuto 9 sconfitte e 4 pareggi. È il classico scontro play-off-play-out, dove per uscire con un risultato positivo serviranno determinazione, concentrazione e coraggio di non mollare mai. Guai commettere gli errori di Grosseto. Nelle ultime giornate la Triestina ha creato occasioni, eppure concretizzato. Stavolta non vanno fallite. Una sconfitta equivarrebbe a una probabile condanna. Il Toro va preso per le corna all'Olimpico, dove ha vinto 9 gare e perse i pareggiati 5. Ancora a Capao il portiere Colombo è squalificato a Longhi. Al suo posto ci sarà Filcor terzino sinistro. Resta ancora l'interrogativo Lunardini. Il centrocampista ha accusato un dolore muscolare e solo l'ultimo Salvioni deciderà se inserirlo o preferirgli i dettori. Confermati invece Gerbo centrale e Taddei che affiancherà Godeas. Nel Torino attacco con Bianchi e Antenucci. E sulla fascia Alex Grigna, sempre munito di licenza di uccidere come all'andata. L'Unione dovrà puntare non tanto a riscattare l'1-0 subito a dicembre, quanto a restare nella scia play-out, perché a tre giornate dalla fine la retrocessione è alle porte. L'Unione dovrà puntare non tanto a riscattare l'1-0 subito a dicembre,